Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, come sempre ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria. Allora, se la maglietta che porto questa sera vi ricorda qualche cosa, beh, sì, è proprio lei, la telnischia, la maglietta a strisce orizzontali bianche e nere della voienno morskogo, flotta della flotta dell'Unione Sovietica, è proprio lei, questa qua, me l'ha regalata un amico ucraino che lavorava come buttafuori in un locale dove facevo il DJ. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, cari signori questa sera si ride, si ride, si ride, perché? Perché questa sera parleremo di uno dei più deliranti progetti mai messi in piedi dalla Germania nazista. A gentile richiesta parleremo di lui. Eccolo qua. Lo riconoscete? Lo vedete bene? Lo vedete? Lo riconoscete? Quello grosso? Allora, quello piccolo davanti è un mouse che già era un bel bestione. Nel mezzo c'è l'omino che serve a fare le proporzioni dovute e l'altro è lui. Il Landkreuzer P. Mille ratte. Il topone. La pantegana. Mille tonnellate di inutilità assoluta. Una cosa che definire demenziale per non dire demente è poco. La classica fissazione di Hitler per avercelo più grosso di tutti. dal cannone d'ora alla Bismarck, passando per questo bestione, diciamo Hitler amava gingillarsi con questi giocattoloni. Forse a compensazione non lo possiamo sapere, ma comunque sia. Il Landkreuzer P. Mille ratte. Eccone un'altra illustrazione. Eccolo qua. Scusate la pessima qualità, ma come vedete. Un bestione allucinante che doveva, come dire, essere armato con due cannoni navali da 280 mm SKC-134 che erano montati su una torretta del tipo di quelle usate sulle unità della classe Skarnurst che erano opportunamente modificate per contenere soltanto due bocche da fuoco invece delle tre della versione navale. L'armamento secondario avrebbe dovuto consistere in un cannone anticarro da 128 mm, lo stesso che veniva installato sullo Jagdtiger e sul Maus, due cannoni automatici da 15 mm Mauser MG-151-15 e otto cannoni antiaerei Flak 38 da 20 mm montati su un'unica torretta, la Flak-Wirling 38, oppure combinati in gruppi di due o tre. I cannoni da 280 mm dovevano servire per colpire a lunga distanza i grandi bersagli. Il 128 mm avrebbe affrontato i carri armati o i cacciacari nemici, mentre i cannoni automatici, le mitragliere pesanti e automatiche da 15 mm, dovevano essere usate contro l'affanteria nemica e i mezzi leggeri o poco corazzati. Invece, gli otto cannoni da 20 mm avrebbero dovuto coprire, fornire una copertura antiaerea contro gli attacchi aerei nemici. Sì, come no, diceva quello. Cioè, rendiamoci conto, gente, rendiamoci conto, c'è mille tonnellate, mille tonnellate, mille tonnellate, e dico mille tonnellate, come cazzo fai a muoverle? Uno si domanda e dice, dice, va bene, va bene, il carro, questo supercarro, questo mouse, avrebbe dovuto essere mosso da dei motori, da U-Boat, che dovevano fornire la potenza di 16.000 cavalli che erano necessari quantomeno per spostarlo. La velocità massima prevista doveva essere, in linea teorica, di circa 40 km orari, ma mi spiegate come cazzo la raggiungevano sta velocità teorica di 40 km orari con un bestione da mille tonnellate su terreno mosso, morbido, fangoso o quantomeno accidentato. Dove cazzo? Dove cacchio andavi con mille tonnellate di carro armato? Cosa ci facevi con mille tonnellate di carro armato? Fornivi un bersaglio a tutti i reggimenti di Sturmovik nel raggio di 200 km avresti fatto decollare come sarebbe arrivato sul campo di battaglia americani, russi, inglesi, francesi, pure i francesi mangiano nocchie, sarebbero arrivati, porca puttana, a bombardare questo assolutamente inutile bestione che vedete qua. Cioè, rendetevi conto, questo che si vede qua è un tigre. E questo che vedete qua è un semicingolato. Cioè, insomma, rendetevi conto delle proporzioni, rendetevi conto dell'impossibilità fisica nonostante i 16.000 cavalli di muovere un simile bestione. Cioè, ve lo immaginate nella rasputizza russa nonostante le tre file di cingoli per lato da un... Cioè, allora, il fatto è questo qui. L'idea del super cannone era, secondo me, la classica... Non del super cannone, scusate, di questo ultracarro armato. Era né più né meno la classica fissazione di Hitler per avercelo più grosso di tutti. A Hitler piacevano questi giocattoloni, tanto lo sappiamo tutti, il cannone ferroviario da 800 mm Dora o Gustav. Cioè, praticamente l'equivalente di 200 Panzer IV usato per cosa? Per grattare un pochino la superficie terrestre a Sebastopoli e far saltare un deposito di munizioni. Uno. Uno. È inutile dire che, come dire, il Dora tirava, sì, ma tirava proiettile da 800 kg a 40 km di distanza, bla 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 bla. Sì. Ma i costi. C'è gente, gente con un singolo Dora, gli inglesi ci fabbricavano 40 Lancaster. È un Lancaster, non lo usavi una volta sola, lo usavi più volte e portava molte più bombe con molta più precisione. È. Il Landkreuzer P1000 Ratte praticamente, come dire, non uscì praticamente mai dal tavolo da disegno. Allora, come nacque sta boiata, diciamoci la verità. Allora, nel 1941, quando scattò l'operazione Barbarossa, i tedeschi invasero l'Unione Sovietica, questo lo sapete meglio di me, e nel corso delle prime operazioni catturarono alcuni carri armati russi che furono inviati alle fabbriche Krupp per essere analizzati. I tedeschi, i tecnici tedeschi, i tecnici della Krupp, che insomma stupidi non erano, diciamoci la verità, si resero conto della superiorità di questi carri armati e si misero al lavoro per progettarne uno che potesse competere con loro. Cioè parliamo dei KV-1, KV-2. Nacque così l'idea del Panzer VII Löwe, il leone, di cui furono proposte due versioni, una detta leggera e una detta pesante, entrambe armate con il cannone L70 da 105 mm. Insomma, una bella bestia. Ma col passare del tempo Hitler ordinò di concentrare il lavoro sulla versione pesante. Ma alla fine del 1942 si preferì passare allo studio del Maus, che era più grosso ancora. Insomma, dà una inutilità all'altra. Nel frattempo i tecnici tedeschi, sempre della Krupp, avevano preso a studiare incredibile ma vero un'idea dello scrittore di fantascienza H.G. Wells. Proprio lui, quello della macchina del tempo. E Wells aveva inventato il concetto di incrociatore terrestre, che in tedesco si dice Landkreuzer. Il Landkreuzer P.1000 Ratte venne progettato dai tecnici tedeschi intenzionati a costruire il più grande carro armato che si fosse mai visto. Hitler, ovviamente, ne fu a dir poco entusiasta, e nel giugno 1942 il Ratte fu messo in cantiere dalla Krupp. E alla fine di quell'anno i tecnici presentarono dei disegni di progetto ad Albert Speer, che era diventato ministro degli armamenti. Speer si mise letteralmente le mani nei capelli vedendo sta roba e dice ma siete deficienti? Io mi immagino il ministro Speer che dice ma quanto vi pagano i russi per progettare ste cazzate? Mi immagino che abbia detto. E ovviamente Speer non ne fu per niente colpito e non ne fu per niente entusiasta perché oggettivamente il concetto era una boiata. Cioè, mille tonnellate, mille tonnellate, gente, mille tonnellate di sta roba. Come cazzo le muovi? Cioè, tu ci puoi mettere va bene, ci metti più motori da U-Bot per ottenere 16.000 cavalli di potenza, tre file di cingoli parallele per lato, insomma, tre file di cingoli a destra, tre file di cingoli a sinistra, ciascuna di queste file larga un metro e venti e i cingoli in totale sarebbero stati larghi sette metri e passa. Ma come come cazzo ti viene in me? Cioè, tedeschi, cioè, siete tedeschi per pensare una roba simile, veramente? Cioè, ma ci pensate un attimo? Cioè, godetevi un attimino la scena, no? Il ratte mette piede sul campo di battaglia e a un certo punto la ricognizione aerea lo individua. Passa sopra il campo di battaglia, passa sopra un bel ricognitore sovietico e dice oibo, cos'è sta roba? Il ratte! I tedeschi hanno messo in servizio il ratte. Oibo, avvisiamo subito i compagni dei reggimenti di Sturmovik. Nel giro di mezz'ora, probabilmente, sul ratte sarebbero arrivati tutti gli stramaledetti Sturmovik del cazzo presenti nel raggio di 300 chilometri, se non di più. Insomma, volete mettere che i compagni della Voyennu Vosnuzhnesili si lasciassero scappare un simile boccone? Insomma, gente, cioè, rendiamoci conto, cioè, il P-1000 sarebbe stato soltanto una sorta di piattaforma poco mobile per due cannoni navali che poco più che avanti e indietro non avrebbe potuto fare. Cioè, ma ci vogliamo rendere conto di che cosa sono mille tonnellate da muovere nella rasputizza russa? Cioè, come ci attraversi i ponti? I fiumi li fai attraversare a guado con lo snorkel perché non ci sono ponti in grado di reggere una roba simile. E la velocità massima? Cioè, il consumo di carburante, il consumo di materie prime, 40 uomini, doveva avere un equipaggio dai 25 ai 40 uomini questo bestione. Cioè, ma ci rendiamo conto dello spreco di tempo, di soldi, di risorse, di tutto che rappresenta questo colpo di genio inverso dei tecnici tedeschi. Cioè, rendiamoci conto. Cioè, signori, io capisco perfettamente il fascino delle Wunderwaffen, capisco perfettamente tutto, l'attrazione, ma, cioè, signori, si parla di una cosa seria come la guerra. La guerra è una cosa seria, è una cosa terribile. Cioè, il fatto di pensare che un simile accrocco, che un simile attrezzo, che un, come dire, una simile bagianata, cingolata, chiamiamola col suo nome, è una cazzata su cingoli, letteralmente, il P. Millerat, non si può definirlo altrimenti. Io non riesco a trovare altre parole. Cioè, mi tocca sentire dire ma cosa ne pensi del P. Millerat? Ah, ma se fosse entrato in servizio, oh, il P. Millerat. Cioè, gente, siamo sinceri, punto e basta. Il P. Millerat è la dimostrazione di come nell'industria bellica tedesca bastasse sapersi intortare bene il Führer, bastasse indorare, cioè, come dire, presentare la più clamorosa cazzata possibile per ottenere fondi, risorse e soldi, che era quello che tutto sommato interessava alle industrie, in culo alle necessità belliche. Insomma, signori, io, se gli inglesi avevano progettato la cosiddetta portaerei di ghiaccio, che però si era rivelato un progetto fattibile, detta così com'è, cioè, i tedeschi hanno fatto anche di peggio e oggettivamente il P. Millerat, questo, 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 non so neanche io come definirlo, questo, questo robo, questo affare, questo attrezzo, questo accrocco, questo, 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 pantagruelico ciabattone inutile, è proprio la dimostrazione di come Hitler fosse, come dire, affascinato da tutto quello che era grosso, pesante e inutile. Poco da dire, poco da fare. Uno dei tanti giocattoloni di Hitler, uno dei tanti inutili giocattoloni di Hitler. Non stiamo lì a girarci intorno, era una cosa assolutamente inutile, assolutamente improponibile e pressoché inutilizzabile a livello bellico, perché il terreno stesso su cui avrebbe dovuto camminare lo avrebbe immobilizzato quasi subito. Spostatele voi, mille tonnellate, come cazzo le sposti? Come, 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 lo potete spostare, un bestione simile. Ripeto, i 16.000 cavalli dei dei motori d'Aubot che dovevano muoverlo. Immaginatevi la scena nella rasputizza rossa, eh, o nel tormentato paesaggio dell'Europa occidentale, tra calanche e colline. Eh, 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 ce lo vedete? Mille tonnellate. Ce le vedete mille tonnellate che passano nelle colline delle Ardenne? Ce le vedete mille tonnellate che si muovono nelle steppe russe? Ce le vedete mille tonnellate nel fango delle pianure russe? Ce le vedete? E soprattutto ce le vedete mille tonnellate ferme in pianura o in montagna con tutta l'aviazione anglo-americana e con tutta la voie novosnusnesili che ti ronza sulla testa che non vede l'ora di farti la festa? Cioè, signori, rendiamoci conto, il Pimille, il Pimille Ratte è quello che si dice semplicemente una cazzata. Stop. Una cazzata come idea, una cazzata il pensare che potesse avere una qualsivoglia utilità, una totale, assoluta e innominabile boiata. Detta così come, la realtà dei fatti, signori, è questa. In guerra tu devi mettere in servizio cose che sai che ti possono servire, cose che possono essere usate facilmente, cose che possono avere un impiego pratico. Io voglio semplicemente sapere ma che cazzo ci volevano fare con una cosa come il Pimille? Dove cazzo andavi? Lo ripeto, dove cazzo andavi? Pensateci, pensateci bene. Quindi, vabbè, cari signori, io ripeto, scusate i toni, scusate le parolacce, scusate la faccia, scusate la maglietta della marina sovietica, vi chiedo scusa, ma mi hanno chiesto parla del Pimille Ratte, io ne ho parlato, ma più di così io non posso dire. Una, una, boiata, una, cioè anche solo l'idea, anche solo l'idea era una boiata, anche solo l'idea, cioè, H.G. Wells era un grande scrittore di fantascienza, era un grande scrittore, era un grande scrittore di fantascienza, ma trasportare certe idee in pratica non è fattibile, non è possibile, non tengono minimamente conto delle necessità belliche di quello che è il fronte, di quello che è il terreno, di quello che è oggettivamente la meccanica dei fatti, cioè, come cazzo lo muovi? Ripeto, tutto qua, va bene, signori, ripeto, scusate ancora per i toni, scusate ancora, sì, mi viene da ridere, ma credo che non ci sia da fare nient'altro, io dico sempre una cosa, parlate, volete parlare del Pimille Ratte seriamente? Gente, fatevi una risata, che tanto domattina vi svegliate tutti sotto un cipresso o dentro il cipresso, se la cuba l'hai presa un pochino allegra, ma, vabbè, signori, scusate, vabbè, ve l'ho detto, Landkreuzer Pimille Ratte, se c'era un'idea inutile, eccola qua, tutto qui, io, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, ripeto, scusate per, la ridarola che mi ha preso, ma non posso fare diversamente, perché veramente c'è tanto da ridere, dal solo pensiero, cioè, ripeto, pensateci, pensateci a Ratte sul fronte orientale, quanto sarebbe riuscito a durare? Tutto qui. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera. Ciao.